Saluto cordialmente tutti i presenti a questo momento in cui la figura di Ermida Barelli viene presentata nella graphic novel e ci ricorda quello che il titolo significa nulla sarebbe stato possibile senza di lei. Ecco dunque la rievocazione di una figura a cui è attribuito un ruolo fondamentale in tante attività e imprese nella chiesa italiana e nella comunità delle consacrate in particolare a servizio dell'inizio e dello sviluppo dell'università cattolica. Dunque rievochiamo una figura del passato e che rapporti ha l'università cattolica con il suo passato, con coloro che l'hanno fondata, coloro che l'hanno tenuta viva. Ecco questa è la domanda che ci accompagna in questo periodo. Il passato rappresenta come le radici di un albero per cui l'albero continua a produrre frutti e foglie e bellezza perché attinge alle sue radici. Oppure è capitato come una talea per cui da un ramo si è creato un altro albero che vive, produce, si allarga a prescindere dalle sue radici. Ecco questa alternativa noi la vogliamo risolvere ricordando questo riferimento ad Armida Barelli e agli altri protagonisti degli inizi e forse a differenza di queste immagini vegetali delle radici o della talea. Forse noi possiamo dire che il nostro cammino è come quello di un popolo che attraversa la storia accompagnato dagli angeli, cioè da coloro che Dio ha mandato per istruire, incoraggiare, illuminare il cammino del popolo. Ecco l'università cattolica è un popolo in cammino e gli angeli continuano ad accompagnarlo. Ma come faranno questi angeli a farsi capire, a consegnare l'ardore e la pazienza, a consegnare le idee, i sogni a coloro che sono ancora in cammino? Quale linguaggio useranno? Ecco abbiamo qui l'esempio di una graphic novel, cioè di un modo di comunicare, che cerca di concentrare il messaggio di questa figura straordinaria e nello stesso tempo di renderlo significativo per una generazione nuova. Questa è l'ambizione che è stato, che ha guidato quest'opera e che io desidero apprezzare e di cui incoraggiare la diffusione, un linguaggio adatto a questi tempi per dire però quello che ci sta a cuore, quello che è irrinunciabile, per raccogliere ancora la parola degli inviati di Dio per questa impresa straordinaria che è l'Università Cattolica. E questo messaggio che arriva attraverso un linguaggio semplice, accessibile, immediato, è soltanto uno strumento per entrare in quella comunione dei Santi che accompagna il popolo in cammino. I Santi non sono sepolti nel loro passato, ma sono vivi nel presente, ci aiutano, ci intercedono per noi, ci ascoltano. È per questo che la beatificazione di Armida Barelli rappresenta un'occasione per rendere vivo questo rapporto con il passato. Dunque saluto voi tutti che siete convenuti per questa presentazione, ringrazio gli autori, esprimo a nome del Tognolo l'apprezzamento per il risultato che è stato voluto dal Tognolo e commissionato all'editrice e dunque ringrazio tutti, auguro di apprezzare questa opera, di conoscere Armida Barelli e di farla conoscere. Buon lavoro e buon cammino a tutti.